Sì, non vedo nessun bambino che li vieni incontro, ma com'è possibile questa cacca? Oh, finalmente ce l'ha fatta, un milagro, scusate ma dopo un'ora mi aveva iniziato, avete fatto bene. Non sarà ma si vuole come il primo. E i tuoi sempre buoni sono, mamma. Sì, ottima ci ti racconto della maestra. Ma perché faccio scuola carcia? E che vuoi diventare un campione come tuo padre. E poi da questo, mi interesserete quando guardavo il palermo, sarebbe in che porta delle segnali, sinistra, destra. Non ti azzardare nemmeno. L'hanno portata qui e hanno venuto. Per me? Aprile. No, è per tutti. Allora, gentilissima parola francese, non voglio darvi fastidio, ma vi prego di rivedervi. Io conosco il... Io conosco il... Che c'è? Dice di salere America sul nostro palco. Ma di cosa è questa, letta? Domenico di Marco? C'è pure il telefono. Lo conosci? No. Lo conosco io. Da dove? Uno strano, ogni tanto della giornale porta qualche notizia. Dice che conosce un po' di gente all'albergheria. E allora? E allora niente. Dice che è stato un mafioso, che poi vorrà smesso. Quindi questo è un pazzo. Dice anche che sta collaborando con i giugi, ma a noi ci sembra più un mito, ommeno. E' quello che mette mi ricostruisce. Noi? Fa un po' le stesse parole. Non sa un cazzo. Giugno. E tu che rischi? Ci hanno passato di vent'anni, Giuseppe. Ci hanno detto che è stato un delitto di mafia, del giantano. Ma non basta. Per fare i processi servono le prove. E io le prove le ho cercate per una vita. Va bene, sta bene. Se invece questo non vuoi dire. Mamma. Scusate. Ecco, bravo. 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 Grazie a tutti.